Buonasera cari concittadini, stasera metto il cronometro così spero di potervi intrattenere non più di un quarto d'ora, ecco, speriamo di farcela e vi volevo dire qualcosa di importante, vi volevo aggiornare su alcune cose di cui ci siamo occupati, il Viale Quinto, grazie a Dio, si sono fermati i lavori, siamo intervenuti, i cittadini hanno fatto una raccolta firme ai commercianti, vi aggianerò anche su questo, la tegina ha vinto, siamo tutti contenti e l'amministrazione più scassa della storia continua ad essere un'amministrazione sulla carta trasparente ma nei fatti è nera come il carbone, questi saranno un po' gli argomenti, io voglio stasera, se possibile, salutare tutti i concittadini che ci seguono da tutte le parti veramente del mondo, quindi vi prego, se potete, e alcuni ormai vi conosco perché siete assidui e se scrivete da dove state seguendo, io faccio di tutto tra una cosa e l'altra, vi vorrei salutare e ringraziare perché veramente siete meravigliosi, ecco, io credo, il mio sogno, a parte Luther King sapete che sogno aveva, il mio sogno è quello di vedere un mondo migliore, un atreggio migliore in attesa che, diciamo, io da cristiano credo che Gesù tornerà e quindi in attesa io lo aspetto, ma non posso aspettarlo girandomi i pollici, ma devo aspettarlo facendo tutto quello che posso per fare in modo che la società in cui vivo, in questo caso la città in cui vivo, sia più giusta, più trasparente, vedete, c'è un'ipocrisia dilagante che noi dobbiamo combattere, noi soldati di Reggio. E stasera vi farò vedere un esempio eclatante, che ne vedremo delle belle con questa storia, ma io vi voglio già aggiornare perché proprio oggi il Comune mi manda, vi ricordate che vi ho detto delle password aurica, che sono le password? Sono le password che se noi abbiamo un sistema informatico, un protocollo informatico e poi tutti i processi, diciamo, amministrativi, tutti in un sistema informatico, un consigliere comunale dovrebbe accedere con un massimo livello di penetrazione rispetto a qualunque altro dipendente, dirigente, eccetera, eccetera, dice la legge. Io in più sono anche Presidente della Commissione Controllo e Garanzia, quindi dovrei andare a spulciarmi gli atti, anziché andare a chiedere a destra a manca che non te li dà nessuno, ti fanno ostruzionismo a tutte le parti. Filippo Quartuccio, vi ho raccontato, ha protestato in Consiglio Comunale perché ha fatto una richiesta di accesso agli atti non so di quanti mesi fa e lui non gliel'hanno dato, ha detto che non sarebbe uscito dal Consiglio Comunale prima di avere gli atti, poi ovviamente il sindaco Brunetti l'ha sgridato e lui in buon ordine non ha richiesto più niente, ma per dirvi come anche un consigliere di maggioranza non riesce ad avere gli atti. Quindi tutto quello che voi sentite, trasparenza, amministrazione trasparente, sono tutte cavolate. L'amministrazione di Reggio Calabria è tutto tranne che trasparente e c'è un sistema fatto ad arte per impedire ai consiglieri comunali, parlate con gli altri consiglieri comunali, se ne conoscete vi diranno tutti la stessa cosa, se uno deve fare un'azione ispettiva, un'azione di controllo non può chiedere gli atti oggi e averli dopo tre mesi perché è finita l'azione di controllo. Io devo avere presente da Madrid Claudio Laganà. Ciao Claudio, noi cerchiamo di continuare, aiutateci anche voi, reggini da fuori legge, abbiamo bisogno anche del vostro aiuto, perché qua la situazione è gravissima, molto molto grave, quindi ci vuole l'impegno di tutti, ok? Bene, allora, vi dicevo, io chiedo, quindi io da consigliere comunali dovrebbero avere tutti i consiglieri comunali, nella città metropolitana c'è l'hanno, chiedo le passeport d'aurica e non me le danno. Faccio una lettera tutta dettagliata, dicendo tutta la giurisprudenza su questo tema, dopodiché San Venzan, San Venzan, Canada, Massimiliano Gatto e dal Canada. Ciao Massimiliano. Allora, così vediamo se riesco a salutarvi. Allora, un attimino, vediamo se riesco a fare due cose in una volta. Allora, che mi rispondono oggi? Ora no, ovviamente non vi leggerò tutto quello che mi hanno scritto, questa è la lettera, vi leggo soltanto, ovviamente, come mi hanno risposto, che non mi danno le password, perché io già ce l'ho le password, le ho usate, non si vede niente, allora vi scrivo, a tale riguardo si evidenzia che al momento il Consiglio comunale dispone di un accesso personale con utente e password dalla piattaforma di gestione documentale, che è tuttavia limitata, guardo il cronometro, andiamo a 5 minuti perché non vi voglio trattenere più di un quarto d'ora, speriamo di farcela, è tuttavia limitata alla visione di soli ordini del giorno, del Consiglio comunale, delle proposte deliberative all'esame delle commissioni e non consente l'accesso alle sezioni documentali della piattaforma. Tale limitazione, la scusa per non darmi le password, tale limitazione è dovuta all'attuale configurazione della piattaforma documentale che non consenta allo Stato di limitare il suo accesso in ragione della tipologia di atti, escludendo ad esempio atti dichiarati sensibili e sottoposti al segreto ufficio, nonché essendo il web-based consenta l'accesso solo a dispositivi posti presso gli uffici comunali. Chiedono un parere qua a un'organizzazione dello Stato, che ovviamente non vi leggo, che dice però il contrario di quello che loro scrivono perché loro hanno dato delle motivazioni, alcune sbagliate perché io conosco bene la giurisprudenza perché ho studiato questa cosa, perché è fondamentale, insomma per dirvi a me, per consigliere comunale, Presidente di Commissione, mi vogliono fare accedere soltanto agli ordini del giorno e agli atti delle commissioni, c'è lo 0,1 di tutti i documenti del Consiglio. Come faccio io a controllare gli atti amministrativi che sono il Presidente e lo devo fare controllare alla città e ai consiglieri comunali prima e alla città? Quindi è la cosa più importante per la trasparenza? Volevo sapere che effetto ha, cari concittadini? Quello che vi ho letto sulla vostra vita? Volevo saperlo? Beh, tutti i processi, cioè la democrazia è basata sul controllo dell'opposizione ma anche della maggioranza, della trasparenza, vedete che si parla di amministrazione trasparente, amministrazione trasparente perché i cittadini devono poter entrare loro stessi con gli accessi agli atti di governo diritto ma anche attraverso i rappresentanti istituzionali che devono fare questo, che hanno questo compito. Quindi tutti gli imbrogli che fanno dentro, qualunque cosa avviene nella pubblica amministrazione? Se non c'è un controllo accurato, ovviamente ognuno fa quello che vuole. Siccome loro vogliono fare quello che vogliono, mi hanno impedito di vendere le parti. Vi posso assicurare che questa storia non finisce qui. Siamo all'inizio, io farò una battaglia per questa cosa perché c'è un riverbero su tutta la vita nostra, sociale, amministrativa e sociale, perché loro non vogliono essere controllati, che nella stanza dei bottoni non vuole essere controllati. Ogni volta che si va a chiedere un accesso agli atti è una guerra, è un combattimento. Vi vorrei filmare queste situazioni quando vado a chiedere agli atti. La faccia che fanno? Dovrò andare con un vigilo urbano, devo avere un testimone, non posso andare neanche solo. Devo andare con un vigilo urbano e chiederò un vigilo urbano al comandante dei vigili per farmi accompagnare quando vado a fare gli accessi agli atti. Non mi vogliono dare le password. Vi rendete conto a che punto siamo in questo comune, cari concittadini? Questa è una cosa gravissima, perché questa è la base della democrazia. È la base della democrazia. Quando voi mi chiamate, le vostre pratiche non si sa dove sono, ci sono inghippi, ci sono cose che non vengono fatte da mesi, da anni. Se ci fosse veramente un accesso per tutti i consiglieri comunali e anche per i cittadini con accesso agli atti più veloci, questi qua che governano, che stanno nella stanza dei bottoni, tremerebbero. Avete capito? Purtroppo non vogliono essere controllati. Noi li dobbiamo controllare. Perché uno dei problemi della cattiva amministrazione di Reggio Calabria, del disastro amministrativo di Reggio Calabria è proprio questo, che non sono controllati da nessuno e non vogliono essere controllati. Avete capito? Questo si riverbera nella nostra vita privata, nei servizi essenziali ai cittadini, in tutte le pratiche amministrative del lente. Vi aggiornerò su questa cosa. Dopodiché vi aggiorno sul Viale Quinto. Dopo che siamo andati due volte, già dalla prima volta hanno bloccato i lavori, siamo andati due volte per mettere un sigillo a questa cosa insieme ai cittadini che già avevano raccolto le firme, hanno fatto una riunione non so dove, alla ConfCommercio non mi ricordo. Grazie a Dio l'amministrazione ha detto che per adesso blocchi i lavori. Noi veglieremo su questa cosa, perché ovviamente io non mi fido, pensate che io mi possa mai fidare di questa amministrazione. Dicono una cosa e regolarmente ne fanno un'altra. Se non hanno il faro addosso, fanno quello che vogliono. Quindi noi dobbiamo mettere questo faro addosso a questa amministrazione che è trasparente come il carbone nero. Non vuole avere controllori. E noi invece dobbiamo controllare. Dopodiché la questione regina. Oggi abbiamo vinto una partita molto difficile che abbiamo vinto dall'ultimo minuto, siamo tutti contenti, non ci culliamo perché ancora ovviamente il cammino è molto lungo e dobbiamo usare lo stesso piano. Stare vicino alla squadra e controllare quello che questi signori fanno. Perché ancora io non mi fido di loro. Gli ho dato un inizio di fiducia per poter, insieme a tutti i concittadini, vedere quello che fanno. Un plauso va ai tifosi che venivano da Reggio Calabria, un altro gruppo veniva da Roma, che sono andati a Napoli, per la vicino Napoli, a Portici, per seguire la partita in un giorno di lavorativo. Un plauso ai tifosi che sono andati là per seguire la squadra. E noi l'abbiamo vista in televisione. È importante in questo momento stare vicinissima alla squadra e controllare quello che viene fatto. Poi dobbiamo approfondire la questione dei concorsi. Sto ricevendo un sacco di telefonate, un sacco di segnalazioni su questi concorsi. Vi ho detto che già 3.000 hanno fatto in modo da renderlo talmente discriminante e discriminatorio che 3.000 non hanno potuto partecipare alle preselezioni, tanto l'hanno fatto complicato. Andremo a vedere quello che è successo, chi ha vinto, chi non ha vinto, ci sono rapporti, eccetera. Questa è una cosa che faremo a breve e di questo vi volevo aggiornare. E poi vi volevo dire un'altra cosa molto importante. Dobbiamo ritornare a Mortara, quella zona di Mortara, la zona della Fiumara, dove c'è una discarica a cielo aperto e ci sono abitazioni con cittadini che sono proprio vicino alla discarica. C'è veramente un pericolo sanitario gravissimo. Quindi i cittadini hanno fatto la raccolta firme, hanno fatto denunce Pino Falduto ed altri, non hanno fatto assolutamente niente, rimane in una situazione devastante. Così fanno, non fanno niente e uno che deve fare dopo che denuncia? Dopo che parla il prefetto? Che cosa deve fare? Capite in che condizioni ci troviamo? Dobbiamo trattarla noi soldati di reggio. Io ho detto ieri e vi confermo oggi che se veramente questo esercito che si sta formando all'interno di questa città, nelle circoscrizioni, stiamo creando i gruppi di sentinelle, soldati sentinelle. Quindi chiunque di voi voglia partecipare a questa, stiamo preparando la piattaforma, me la state chiedendo tutti, la stiamo soltanto ritardando per motivi di sicurezza e la vogliamo blindare dal punto di vista della sicurezza, perché vogliamo che i dati che vengono inseriti là non ce li tocchi nessuno. Dopodiché stiamo formando dei comitati di soldati sentinelle in ogni circoscrizione, ogni rione. Chiunque di voi voglia essere un soldato di reggio all'interno della propria circoscrizione mi scriva, scriva nel mio sito, in messenger, se avete il numero scrivetemi su whatsapp che vi inseriremo e vi verremo a trovare perché stiamo cominciando a formare questi comitati che saranno sentinelle, soldati semplici, non ci saranno comandanti, ci saranno solo servitori. Perché noi vogliamo presidiare il territorio, vogliamo controllare il territorio e vogliamo a gran voce dire a questi disastrati dell'amministrazione Falcomatà che devono, ormai la popolazione è fuori di sé, ma si vorrebbe staccare tutti dal comune, non sanno più quello che devono fare. Sono andati a protestare, sono andati al Palazzo San Giorgio, sono andati da tutte le parti e non è successo niente. Quindi noi stiamo preparando queste sentinelle che insieme a me e io insieme a loro, soldati che sono pronti a fare la guerra con le armi della trasparenza, della verità, della giustizia, del coraggio, noi preserveremo il territorio e proporremo al territorio le proposte, scusate, il territorio proporrà all'assemblea, quindi al gruppo di questi soldati, quelle che sono le proposte da portare alle prossime elezioni. Che faremo? Faremo delle liste e prepareremo una campagna elettorale minuziosa. Faremo il contrario di quello che fanno gli imbroglioni quando fanno le liste promettendo a destra e a manca senza poi fare mai niente. Il 99,9% delle persone che ricevono promesse non hanno nulla, soltanto una piccolissima, ma ancora molto molto piccola percentuale ha qualche beneficio dai politici. Quindi noi per avere un beneficio tutti dobbiamo cambiare il sistema, dobbiamo cambiare l'amministrazione. Cleria, ciao Cleria Ligotti, ti saluto, scusami che le tante segnalazioni che tu mi mandi non ti posso rispondere, ma ti ringrazio per quello che stai facendo. Ciao Giovanni Lacava, sono passati 15 minuti, sono col cronometro qua perché non vi voglio intrattenere troppo, perché ogni giorno, quando c'è necessità, sì assolutamente, ma oggi vi volevo dare queste notizie soprattutto riguardo a questa, al fatto che non mi vogliono dare queste password per controllare insieme a voi l'amministrazione più scarsa della storia, vi dico questo e concludo, non vi scoraggiate mai, ok? Fabio Gatto, la piscina comunale, l'ho detto l'altra volta e sono andato, la piscina comunale, il campo di Ciccaredo, il palloncino, non funziona niente, non si può neanche fare più sport a Reggio Calabria, non funziona più niente, Ciccarello è rimasto, vi ricordate hanno fatto 4-5 conferenze stampa su Ciccarello, ma ve lo farò vedere, promettendo, ripromettendo, ripromettendo quello che avevano promesso prima, si dimenticano pure quello che promettono, ma è inutile tornare su questa cosa, perché ormai sono chiare a tutte le persone, noi dobbiamo non scoraggiarci, non ci dobbiamo mai scoraggiare, anche se veramente ci sono tutte le condizioni reali per scoraggiarsi, non ci dobbiamo scoraggiare, lo dobbiamo fare per amore della giustizia, della verità, della nostra città, dei nostri figli e dei nostri amici, ce lo dobbiamo fare per poter salvare un territorio meraviglioso ma martoriato, ok? Io vi ringrazio cari concittadini, vi ho tenuto 16 minuti, quasi 17 minuti, vi ringrazio per tutto quello che state facendo, ci vedremo domani, domani vorrei andare in un posto esterno, quindi farò la diretta probabilmente del poveriggio, perché quando devo andare all'esterno cerco di farla prima, magari voi ve la vedete indifferita, perché magari ho lavorato e state rientrando a casa, quando sono informazioni che vi devo dare le faccio dall'ufficio o da casa, in maniera tale che ci possiamo comunque raccordare ogni giorno rispetto a tutte le cose, che ci sono a fare, che sono tantissime, ricordatevi che siamo tantissimi, io ringrazio tutti quelli che si stanno proponendo per poter combattere insieme a me questa grande battaglia, vi saluto, buona serata dal soldato semplice Massimo Ripievi dell'esercito di Reggio, arrivederci e il signore benedica Reggio Calabria, arrivederci e a domani, se Dio vuole, 17 minuti e 51 secondi, arrivederci. Grazie. Grazie.